L'esordio in Serie D, entri in campo dopo 5 minuti, fai un gol e che gol? Il gol partita, giornata ideale. Te la sognavi così o non pensavi neanche a giocare? Personalmente non pensavo nemmeno a giocare. C'era un po' quell'effetto dell'esordio in cui hai un po' di timore però quando ho visto quella palla ho calciato sperando che entrasse e con un pizzico di fortuna è entrata. E poi hai fatto quasi fatica a esultare, ci hai messo un attimo a renderti conto? No, a dire la verità nemmeno adesso, mi rendo conto di aver segnato ma l'importante appunto è che la squadra abbia vinto perché comunque quello che ci eravamo prefissati erano i tre punti e sono felice di quello. Cosa hai pensato quando eri a bordo campo, il team manager ha alzato il cartello del cambio, il mister ha dato le ultime indicazioni, cosa ti è passato nella testa? A dire la verità nella testa ho pensato adesso sbaglio però dai, è andata bene. A parte i scherzi, l'importante era vincere e comunque giocare bene e per fortuna è successo. Ascolta, tutto l'anno è il tuo giordio, ti sei allenato, sono mesi che lavori con questo gruppo, trovando poco spazio però, lo dicevi prima ai colleghi, un sacco di consigli ti hanno fatto sentirsi da subito importante, è un po' questa la chiave? Sì, sì, senz'altro, come dicevo prima è il mio primo anno in prima squadra e ho trovato un gruppo davvero fantastico in cui ognuno ti dà le indicazioni giuste, soprattutto nel modo giusto, nessuno è mai maleducato, tutto, ti sgridano quando c'è da doverti sgridare, però davvero ogni consiglio che ti danno è fondamentale. Ascolta, la dedica e ci vuole? La dedica alla mia famiglia, ai miei compagni, a tutti quelli che mi stanno vicino, davvero. Grazie a tutti.